ancora due giorni e comincia la grande sfida sì perché a Milano si apre Tempo di Libri la nuova grande fiera del libro che è nata in diretta concorrenza con il Salone del Libro di Torino che si svolgerà a maggio quindi dal 19 al 23 aprile qui a Milano a maggio a Torino che cosa accadrà? come sarà? come si svilupperà questo discorso? sarà una provocazione che poi determinerà un aumento del numero dei lettori in Italia? chissà ai posteri l'ardua sentenza buona settimana dopo le abbuffate di Pasquetta grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.